Ancora una trattativa in salita per la legge elettorale e ancora una volta il PDL a mettere i bastoni fra le ruote. Lo fa con una nuova bozza di proposta, afferma Quagliariello e Malan. Il testo prevede un premietto fisso di 50 seggi che scatterebbe nel momento in cui nessuna coalizione raggiungesse la soglia del 40%. Un documento che proprio non piace al PD, tanto che in mattinata anche il segretario Bersani da Tripoli è tornato sull'argomento, chiedendo al PDL un po' di chiarezza. Siamo di fronte alla ventesima proposta, ha detto Bersani, ma non sappiamo di cosa parlano. Contraria anche la capogruppo in Senato, Anna Finocchiaro, che vede l'ennesimo tentativo di bloccare ad un giorno dalla Prodo in Aula una lunga trattativa in commissione che si stava faticosamente raggiungendo sulla proposta Calderoli e che il PD si appresta ora a respingere in toto. Ormai siamo in una condizione di sabbie mobili, ha detto la Finocchiaro, il PDL cambia continuamente le carte in tavola. Ora che il metodo Calderoli dell'ascensore è saltato, siamo noi a rilanciare e chiediamo di tornare dall'accordo che avevamo fatto molto prima. L'incertezza insomma regna sovrana, dentro e fuori il Parlamento. Lo stesso Calderoli dopo settimane di mediazione ha deciso di gettare la spugna. Non si può rianimare un morto, ha detto il padre del Porcellum. Gli fa eco Carlo Vizzini, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, che dice se passasse la riforma della legge elettorale per decreto sarebbe il suicidio definitivo della politica. Mentre Beppe Grillo dal suo blog parla di un golpe per annientare il Movimento 5 Stelle. A tenere banco c'è anche un altro tema, quello che riguarda l'Election Day. Fare l'Election Day in italiano vuol dire anticipare le elezioni. È di questo che stanno parlando Berlusconi e Alfano? Una domanda che per il momento resta senza risposta vizzo il silenzio del PDL. Quanto alla sfida elettorale, il neo eletto candidato di centrosinistra, forte della consagrazione delle primarie, ostenta sicurezza davanti all'ipotesi di una nuova ridiscesa in campo di Berlusconi. Se sarà quella la sfida la faremo. Io francamente non vedo l'ora. Grazie.